Bologna-Cagliari è un po' la tua partita, tre anni fa con la maglia del Cagliari hai debuttato in Serie A, che cosa significa per te? Sì, sono ancora molto legato a quella città, ho molti amici ancora lì e molti ex compagni di squadra che giocano lì, è una partita particolare, come ho detto, sono ancora molto legato a quella città, con l'ambiente. I primi passi anche di un giovanissimo Don Sa con te a Cagliari, ti aspettavi che sarebbe diventato il centrocampista che ora è? Sì, sì, già tre anni fa si vedeva che aveva delle grosse qualità fisiche, anche che poteva diventare un giocatore molto importante. Su quella sponda c'era anche Niccolò Barella che muoveva davvero i suoi primi passi nel calcio italiano, di cui oggi è uno dei protagonisti nonostante la giovane età. Sì, anche lui era al primo anno di Serie A, ha fatto molto bene già dall'inizio e anche lui, come Don Sa, si vedeva che aveva molte qualità che poteva diventare un giocatore molto importante. È una squadra che si sta un po' riprendendo dopo un inizio difficile, nonostante l'eliminazione di ieri dalla Coppa Italia, hanno perso in casa col Pordenone. Ci sono anche dei veterani che conosci molto bene, specialmente in attacco. Sau, Farias, Gio, Pedro, Cossu. È una squadra di qualità? Sì, all'inizio ha faticato un po', da quando c'è stato il cambio di allenatore, ha ritrovato un po' il loro spirito, il loro modo di giocare e sono tornati ad essere una grande squadra molto difficile da affrontare. Come procede la tua seconda stagione a Bologna? Ti stai giocando un posto con Pulgar, quindi in quella zona di campo direi che siamo molto bene coperti. Come va? Che aspettative abbiamo per il prosieguo? Con Erika abbiamo un buon rapporto, un ottimo rapporto, ci alleniamo tutta la settimana sempre al massimo e poi è il mister che fa le sue scelte. Il campionato sta andando molto bene, ma questa buona situazione deve essere l'ambizione per poter difendere questa posizione e se possibile fare anche meglio. Certo, noi puntiamo a migliorarci sempre, ogni domenica per noi calcoliamo che sia una finale deve essere così da così in avanti, devono essere tutte le partite per cercare di mantenere la posizione che stiamo tenendo e continuare a far bene.